La squadra omicidi, la squadra purtroppo che fa registrare morti ammazzati, la squadra che fa registrare infiltrazioni malavitosi all'interno del suo staff dirigenziale, è stata sottoposta come ben sapete ad un giudizio ormai nazionale, ormai tutti quanti sanno che questa è la squadra della illegalità, della illecità, dell'infiltrazione dell'Andrangheta, ben trovati, ben trovati e tutti quanti voi la squadra omicidi, una volta si chiamava interno non iscrivibile, ora squadra omicidi, questa situazione che si sta perpetrando ai danni del calcio italiano perché questi, cioè la non iscrivibile, la squadra omicidi, ha fatto entrare l'Andrangheta nel calcio italiano, è sicuramente un momento di grandissimo declino del calcio italiano, dall'altra parte una procura, come ben sapete, che dal punto di vista delle indagini malavitose sta avendo, sulla malavita, sta avendo successo perché diciamo la verità, arrivare a 19 arresti, tenerli ancora ora bloccati, sotto indagine, sotto custodia cautelare è sicuramente un fatto molto preciso anche se tutto questo è stato mosso dal secondo omicidio, quello del 4 settembre e poi c'è la stampa, una stampa che fa silenzio, una stampa accomodante, una stampa propagandistica rispetto a fatti non veritieri, cioè i non veritieri sono la parte lesa, che non era squadra omicidi e tutto il coinvolgimento dei tesserati che non vengono sbattuti in prima pagina, quindi c'è una complicità della stampa, una totale complicità vergognosa della stampa. E così Giletti che anche lui in fase calante era riuscito per un attimo, per un mesetto ad essere, come dire, protagonista perché ci aveva raccontato dei fatti interni precisi, ci aveva documentato come si era arrivati a quella situazione e tutto questo gli aveva ridato un po' di quella credibilità che nel tempo già aveva perso e poi a un certo punto ha voluto strafare. Ha spolarizzato fatti mai poi fatti vedere o l'hanno bloccato o ci ha giocato lui sopra. Sta di fatto che le attese, le aspettative che c'erano in quella che era appunto un'azione divergente, perché se la stampa nazionale non ne aveva parlato ed era stata complice di un sistema a marcia, cioè i giornali complici dell'Andrangheta, perché questo dobbiamo dire, in sostanza questo è i giornali complici dell'Andrangheta, della malavita, per salvaguardare una squadra omicidi che è la vergogna del calcio mondiale, Giletti in un certo modo era andato un po' controcorrente, aveva dato discontinuità, aveva, diciamo, riaperto la sua credibilità persa già da tempo e invece anche lui rimane ingagliato in questa vergognosa situazione perché ti va a spolarizzare qualcosa che chissà che doveva far parlare tutto il mondo e poi, e poi, niente, come vi avevamo molti di noi annunciato, vi avevamo detto e io la trasmissione non l'ho vista, non la vedrò, mi sono fidato dei giudizi di molti youtuber, di alcuni articoli, di una stampa, diciamo, piccola, ma non asservita, per cui credo che non ci resta altro che voltare pagina, nel senso che pure Giletti è andato, persa la sua credibilità, io non so fino a che punto le prossime, le prossime trasmissioni e pseudo inchieste, perché a questo punto sono pseudo inchieste di Giletti, possono avere un seguito, lo hanno bullizzato anche a lui, pure Giletti è andato, quindi perdiamo una, diciamo, una speranza, perché un po' di speranza l'avevamo messa, come su Gia Identità Bianconera, come su personaggi tipo Massimo Zampini, ritengo che Gia Identità Bianconera e Massimo Zampini rimangono ancora dei baluardi, forse gli ultimi baluardi, per continuare ad avere una visibilità sulle cose che non vanno e soprattutto sulla, diciamo, sull'aggressione continua alla Juventus. Detto questo, sul quale però noi ritorneremo ancora, c'è la situazione di Vlaovic, quando vi parlo io non so se è tornato dalla Serbia, non so se ha fatto già le visite, c'è stato un po' di allarme, perché lui è uscito all'ottantasettesimo minuto, avendo sentito un dolorino, essendo uno che poi non è che si tira indietro, diciamo, una cosa perciò preoccupa probabilmente, sto cercando di guardare un po' se mentre vi parlo escono notizie, notizie che poi a me fino a un certo punto mi sorprendono, perché dalla mattina alla sera eravamo abituati ormai a sentire, a subire insulti verso questo calciatore, è scarso, costa troppo, prende troppo, non mi piace, di tutto e di più. Ad un tratto, ad un tratto Vlaovic diventa indispensabile. Ma scusate, se dalla mattina alla sera siamo abituati a sentire vergognose situazioni su questo calciatore, ditemi voi ora, spiegatemi ora, perché tanta preoccupazione e tanta ansia per la sua assenza. Ma nemmeno Tiago Motto dovrebbe avere preoccupazione per la sua assenza, perché il duolo dice, entra avanti, o lo fa Vlaovic, o lo fa Weah, o lo fa il Dizio. Che se ne importa, è il gioco della squadra che deve andare avanti. Ma Vlaovic, o weah, o il Dizio. Il bomber, la Juve non lo deve avere. Hanno rotto le scatole per settimane intere con questo zizzecchè, zizzecchè, che come cazzo si chiama lui. Andiamo a prendere acquisto, cediamo Vlaovic, cediamo Vlaovic, cediamo Vlaovic. Non c'è Vlaovic. Non c'è Vlaovic. Io non so che si è fatto, non so quando starà fuori. Ma è normale, non è che la Juventus perde il campione. Oh, perde un giocatore sostituibilissimo. Perde un giocatore sostituibile, che non segna davanti al portiere, che non fa gol. Ma io nelle ultime due o tre giorni ho sentito, su youtuber, ho letto, un sacco di cose sulle statistiche di questo Vlaovic. Non ha mai segnato gol Milan, gioca con Milan, deve segnare. Non ha mai giocato con questo e deve segnare. Ha mancato troppi gol. La Juve non è prima in classifica per i gol che si è mancato Vlaovic. Ma ne sentivo di tutti i colori, di tutti i colori, fino a quando ieri sera è arrivata la notizia che si era fermato all'ottantasettesimo minuto della partita. Io non entro nel merito nemmeno delle nazionali, perché questi sono argomenti che personalmente ho trattato migliaia di volte, ci arrivate tutti tardi però. Qui l'unico grande responsabile di questi infortuni, la Juve ne ha perso due ora con questa sosta, ha perso Vlaovic. Ma l'unico grande responsabile, il più grande assassino calcistico che esiste, che è infantino, è il più grande assassino del calcio e nessuno si ribella. Che noi se andiamo all'assemblea degli azionisti della Juventus vogliamo essere parte della FIFA, parte dell'UEFA, parte della FIGC, parte della Lega Calcio, bene allora, muo metti mano al portafoglio e vai a comprare il calciatore. Vai, cara Juventus, cara società, cari presidenti, amministratori delegati dei miei coglioni. Scusatemi, se noi dobbiamo subire Ferrero e Scanavino, due incapaci alla guida della Juventus, perché questo è il problema e voi non ve ne siete ancora accorti, ma che c'entra con il portafoglio di Vlaovic? C'entra perché loro non si fanno mai sentire, sono inclini. A me non mi sentirete mai parlare contro la proprietà, che commette tanti errori, ma è una proprietà che colma pure gli errori degli altri, metto un miliardo in un anno e mezzo nella Juventus, quindi a me non mi sentirete parlare mai male della proprietà sotto questo aspetto, vorrei sempre questa proprietà, poi critichiamo le loro scelte, perché sono criticabili le loro scelte, sono chiaramente criticabili. Il problema non è della campagna acquisti, perché io sono convinto che Giuntoli ha fatto una grandissima campagna acquisti, forse una campagna cessione un po' diciamo troppo facilotta, però a mio avviso c'è stato quel cambiamento che doveva essere anche in sintonia con quello che era il nuovo corso del nuovo allenatore, perché noi queste cose ce le dobbiamo dire. È chiaro, è evidente, quante volte vi ho detto la Juventus non ha l'attaccante di riserva, ma io non credo che sia quello il problema. Diago Motta ci ha fatto capire che la Juventus non l'ha voluto prendere l'attaccante di riserva, perché in quel ruolo vanno altri calciatori, ci sono giocatori che non sono finalizzatori di azioni, come noi Vlaovic, per cui spesso e volentieri siamo abituati a vederlo quasi fuori ruolo. E quindi piano piano tutti quanti devono fare quel ruolo di centravanti tattico. Lo chiamavano una volta, falso nuovo, lo chiamano adesso, che non è Vlaovic. E quando gli è stato chiesto perché non avete preso un'attaccante di riserva, un'alternativa è stato un fatto voluto e ci abbiamo ragionato sopra, ha detto Tiago Motta. Il problema è andare in assemblea degli azionisti e dire noi vogliamo essere parte integrale della FIFA. Bene, la FIFA è la responsabile numero uno di tre soste in 50 giorni, è la responsabile numero uno. È una vergogna, come una vergogna mettere un mondiale a novembre. La FIFA per meri è la responsabile. È una vergogna, come una vergogna, come una vergogna, come una vergogna di un fallito. Non ne fa una buona. E nemmeno la Coppa dei Campioni come l'ha fatta adesso. Questo è uno squallido. La Juventus è complice perché non si oppone, vuole essere parte integrante. Altro che troppe partite. Si sa che si va incontro. Se tu a Vlaovic lo fai giocare tanto tempo, è chiaro, è evidente, ma non sarà solo a Vlaovic, tutti quanti i calciatori. Non capita solo a Vlaovic. Siamo nella normalità, guardate, che un giocatore possa avere dei risentimenti muscolari. Siamo nella perfetta normalità. Perché c'è un calcio gestito male e va di male in peggio. Perché c'è un notabile faccendiere alla guida del calcio mondiale, che si chiama infantino, che fa schifo. Non so se ho reso l'idea. Perché è lì che bisogna andare a colpire da quel notabile faccendiere vergognoso, scandaloso, che è la madre di tutti i mali, quello lì. è la vergogna mondiale. Siamo di fronte ad un personaggio squallido. Siamo di fronte ad un lestofante. E allora mo', cioè da un'ora all'altra leggo situazioni su Vlaovic, vergognose, scandalose. Cioè non si può passare da un giudizio all'altro, anche youtuber, anche giornalisti, anche che si rispettino, perché ci sono poi quelli che non si rispettino, che io non li prendo proprio in considerazione, che passano dalle accuse micidiali nei confronti di Vlaovic. Ha un fatto, oh, ora ci manca Vlaovic. No. Chiunque può giocare nel ruolo di Vlaovic. L'attuale allenatore della Juventus, questo ruolo di centravanti lo ha derubricato. Magari chi giocherà al posto di Vlaovic sarà più incline al gioco che vuol far fare l'allenatore della Juventus. Non vi contraddite. Non vi contraddite. A me Vlaovic piace. Piace come centravanti, come finalizzatore, come sfondatore, perché lo è. Non mi piace quando deve partecipare al gioco, come dice Tiago Motta. Quindi, a mio modesto parere, non cambia nulla. La Juve non è indebolita senza Vlaovic. Mi sembrava strano, ma non lo è indebolita, tutt'altro. Forse chi giocherà al suo posto metterà gli schemi di Tiago Motta più in facilità. i risultati senza Vlaovic non è che sono stati tanto brillanti, però è il nuovo corso e la nuova scelta ce la dobbiamo tenere. Mi fermo qui. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, mettere un like se lo ritenete opportuno la prossima e aspettiamo il verdetto. Cambia poco, tanto. Non c'è Vlaovic, ci sono gli altri. Il ruolo di centroavanti nella Juventus non esiste più alla prossima. Ciao. 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 Ciao.